Abbiamo capito che fare mobilitazione in lockdown, specie nelle zone rosse, è molto difficile se non addirittura vietato, però c'è un malcontento che non può essere lasciato crescere da soli dentro casa. La cosa che viene a pensare è che se il momento non va la montagna, la montagna che va a momento, non potendo incontrare la gente per strada bisogna comunque fare un lavoro che raggiunga il nostro settore, la nostra classe sociale direttamente dove stanno. Questo richiede un cambiamento serio di prospettiva, sia dal punto di vista sindacale che dal punto di vista politico, dal punto di vista sindacale un po' meno perché molti posti di lavoro resteranno aperti, dal punto di vista sociale invece sarà la morte civile, nelle regioni in zona rossa, già in Emilia non è così e nel Lazio nemmeno, però in una situazione così complicata come ci si mobilita? Fabio? Hai fatto la domanda da un milione di dollari, io non a caso prima dicevo che noi continueremo a esperire ogni tentativo, ce le inventeremo tutte per continuare a mobilità, anche perché davvero il tema è quello che dicevi tu, noi se siamo chiusi in casa siamo da soli, se abbiamo una speranza di costruire narrazioni diverse della crisi, di quello che è l'emergenza sanitaria ce le abbiamo nella misura in cui riusciamo a creare comunità, mobilitazione intorno ai nostri temi. È vero anche che c'è la legittima paura, la legittima autotutela delle persone rispetto al dato sanitario del virus, quindi non è facile andare in piazza. Da questo punto di vista penso che noi il segnale che dobbiamo dare è un segnale anche di rassicurazione, nel senso che non siamo pazzi che andiamo in piazza senza le maschere, noi siamo per adottare tutte le misure di contenimento del virus, quindi dobbiamo anche essere da esempio su come si sta in piazza, sicuramente dobbiamo imparare ad utilizzare un linguaggio che è meno iperbolico, forse a volte anche ha bisogno di essere più potabile per parlare ai riferimenti della nostra classe. Sicuramente un altro tema è quello di non essere sufficienti. Io penso che ognuno di noi in questo momento stia sperimentando la visione del fatto che finché rimaniamo su Facebook o parliamo ai nostri iscritti, ai delegati, abbiamo in qualche modo il riferimento immediato e ai riscontro immediato, ma di fronte a una dimensione così ampia del fenomeno ci rimpiccioliamo anche noi, quindi quello che dobbiamo fare è trovare alleanze all'interno dei riferimenti di classe, di settore che ci facciano con molta fatica, perché è difficile trovare la quadra a volte, però dobbiamo in qualche modo rappresentare il fatto che siamo in tanti ed è vero che siamo in tanti, quindi ricomponendoci proviamo a trovare la nostra dimensione anche in questa crisi. Da un punto di vista più politico, Massimo, da Torinese, come pensi che si possa affrontare questa situazione completamente nuova di dover far politica in lockdown? Sicuramente i problemi che sollevava Fabio ci sono tutti e c'è anche bisogno di uno sforzo di inventiva per trovare forme nuove che tengano insieme quell'esigenza di non apparire come dei pazzi e degli scriteriati, perché per noi il lockdown è un fatto importante, ma contemporaneamente non poterci permettere di rimanere solo su un piano puramente mediatico e di Facebook. Quindi queste forme non sono semplici da trovare, servirà una sperimentazione. Noi nei mesi scorsi del primo lockdown avevamo anche fatto una raccolta alimentare, anche questo è importante, ma di per sé non basta. Noi credo che dobbiamo trovare i modi per comunicare, per stare nelle contraddizioni che vivono i nostri, riuscendo a rappresentare una prospettiva politica generale, perché se in questa vicenda sono il governo, le classi dirigenti che mostrano un'incapacità totale di gestire la situazione, vivono alla giornata, scaricano sulla gente un gioco, si salvi chi può, ha un rimpallo anche di responsabilità. È un fallimento di tutto un sistema, di tutto un modello e noi dobbiamo trovare i modi per farci sentire, per rappresentare un riferimento per la nostra gente e dire che serve un cambiamento radicale di classe politica, di classe dirigente, serve cambiare modello e instaurare un modello che faccia gestire una pandemia, un evento che riguarda tutta la società, senza scaricare le contraddizioni su alcuni piuttosto che su altri. Quindi trovare il modo di gestirla collettivamente. Ok, a questo punto porterei il servizio su Bergamo, che non è particolarmente entusiasmante dal punto di vista delle reazioni di massa, ma sicuramente aiuta a capire le condizioni della classe in alcune parti del nostro paese. Saluto i nostri ospiti, sia Fabio che Massimo e invito gli spettatori a restare in linea. Grazie. 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 Grazie.